bello a tutti ragazzi, bello a tutti ragazzi siamo in live su youtube, spero che si veda bene, scrivete nei commenti se mi sentite bene e oggi giochiamo a dammungaz, ok vai raga, io direi di customizzarci, in poco tempo ho visto che tra un po' saltano la partita, ragazzi siamo andando in live, si siamo andando in live, siamo in una persona, wow chi sarà quella persona, vabbè ragazzi bisogna indovinare il personaggio, cioè gli impostori, noi non siamo ovviamente gli impostori, ti piacerebbe, allora, facciamo questa tasca, no hanno riportato uno, ok vediamo, facciamo che metto la webcam qua, non lo so, ragazzi signor david, un attimo, cosa possiamo scrivere, io non so chi è, quindi schippo il video, schippo il voto, scusate, tutti dicono che è red, io non ho visto niente, quindi direi di non votare, scrivetemi se mi sentite bene in caso, una persona, ok, raga aspettiamo il voto, quante ne mancano, non lo so, dai che manca poco e votano tutti, raga come si rimpicciolisce, aspetta, ragazzi questo che ci mette 6 ore a votare, dai, schippo, oddio, oddio, ok, hanno quasi tutti schippato come vedete, ok mettiamoci qua, vediamo, no, ok, quindi siamo ancora altri impostori, allora, dove mi, dobbiamo fare le tasche, abbiamo perso a caso, ma io non so giocare a questo gioco, sarà tipo la quarta volta che gioco, comunque, pubblicità, non possiamo vedere pubblicità, ma stiamo andando in live, la medici di no, ok, dai, ai, buonasera signore, è la partita più lenta in cui abbiamo giocato, però questi sono dettagli, ok, adesso siamo ok, quindi faccio pure la bambina in testa, serissimo, no, 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 dai, mancano due persone, se siamo in posto del godo come un riccio, no, dai, dai, lo facciamo sempre, guarda, 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 guarda i commenti, i birbantelli, che youtuber che sono, ragazzi, io metto la chat, non la metto, sentite, la guardo dopo, ma sono, ah, non sono impostore, vabbò, allora, ragazzi, non riesco a mettere, non riesco a trovare le tasche, io questo gioco, sarà tipo la mia quarta volta su questo gioco, quindi non so giocarci, cos'è sta roba, bene, non ho capito niente, ma comunque va bene, hanno sabotato la luce, che bella, ci mancava questa roba, vediamo come faccio ad entrare qua, ah, ok, no, non ci sei un impostore, no, oggi dobbiamo vincere, almeno, dobbiamo vincere questa partita, la farò per il vostro, dove posso mettere queste scivette, vedete, non lo so, impostore, 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 codo, corri, codo, corri, codo, raga, qua siamo impostori, cominciamo ad andarci, ragazzi, non mi nascondere qua, guarda, guarda, questo è un idiota, guarda, guarda, codo, riportiamo, siamo impostori, vediamo, vediamo cosa dicono, nella scivette, raga, comunque scrivete, fate qualcosa, aspettate, allora, cosa dicono, io, schippano tutti il voto, e schippiamo anche noi, pensiamo in una partita da quanti, da pochissimi, no, uno mi ha votato, non mi dire che perda, non mi, no, non mi dire, un impostore rimane, un impostore rimane, codo, allora, raga, io andrei qua, cerchiamo di non essere troppo sospetti, siamo tipo rimasti in quanti, siamo rimasti, scusate, allora, io ho molta paura di questa partita, nella realtà, però, sono un impostore, portiamolo qua, questo, questa è pericolosa, quasi mi vede questo, sì, ho vinto, abbiamo vinto, prima partita sua, prima, in terza partita abbiamo vinto, questo, facciamo vedere pubblicità, non dobbiamo vedere pubblicità, allora, grazie, vorrei andarmene da questa pubblicità, raga, abbiamo vinto, dobbiamo vincere almeno tre, cioè, se no non sei nessuno, capisci, io me ne andrei da questo server, e andrei in questa, andiamo in questa, ok, dimmi che sono l'impostore, dimmi che sono l'impostore, questa è la faccia di quando uno è l'impostore, aspettate, vabbè, comunque, mettiamo la webcam un po' più gra, direi così, due volte impostore, raga, ho dato una laggata assurda, non mi direi che ho già v, ok, questa qua è la partita che è durata tipo sei secondi, cioè, è durata veramente poco, cioè, raga, ma stiamo scherzando, non scherziamo noi, raga, veramente, cioè, ma quanti siamo? Uno spettatore, ragazzi, sconfazzo, non mi sembra di sponfazzo, scrivete, non avete paura, pedirle sax let's put fuck the what what fuck I stupid the stupid ні dai perché questo non start stagliata mi diciamo start 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 dai questo start i bravissimi e siamo di nuovo impostore io rito no però non sono stati due volte in posteri quindi accontentiamoci di questa cosa raga io non ho dubbi di questo ma ho molto paura tranquillo cambieremo gioco un attimo trancano mettiamo sta finiamo questa partita giochiamo un altro gioco che devo fare io schifiamo finiamo questa partita speriamo che non dura 655 milioni di anni ma ne dubito tantissimo ciao ciao sono ritornato amici non siamo e non ce l'ho scoperto non hanno fatto niente ok vai allora è molto paura di qualcuno devo fare tranquillo david e poi cambiamo così fanno grazie mille no no vabbè raga questo gioco fa un po schifo direi di cambiare gioco completamente io direi di giocare che possiamo giocare proviamo a giocare a uh a fall dead ragazzi allora questo qua è un gioco tipo fall guys è la copia di fall guys su mobile quindi bisogna fare un livello e sclerare quindi giochiamo comunque momento importante per questo video è ricordatevi iscrivetevi al canale non costa niente basta che premere il tasto iscriviti e basta spero che avete capito che siamo attenti a te iscritti da 950 mesi avanti cristo cioè se abbiamo finito magari avanti ci evolviamo e noi dobbiamo arrivare a un milione di iscritti e capito allora e oggi questo gioco non parte più parti gioco no perché non parte perché perché mi sono bloccato noi giochiamo noi giochiamo noi giochiamo noi giochiamo questo webcam possiamo giochiamo a fall dudes oh finalmente grazie mille ok raga ma che gioco è raga sto laggando come non so questo gioco contengo un linguaggio volga ma chi vuole giocare a questo ragazzi il mio telefono si è buggato la live si sta per buggare malissimo e noi cosa dobbiamo dai metti questo non ce la faremo mai dai che parte dai che parte oddio mio ma si prova a levare la webcam nooo ma come si è piccola webcam senza webcam laggi di meno dai o raga ce l'abbiamo fatta entrare dai tra webcam siamo tutti più felici grazie raga perchè sta qua mettiamo play vai raga siamo carichi come un chicco di mela pronti raga lagga come raga la connessione fa veramente che raga si gioca malissima ragazzo io sto giocando come negli anni 60 con la connessione peggio di non so cosa raga lagga troppo non va bene e se giocassimo raga se si chiude magari questa cosa grazie mille perché tutto rimpecilito dai mi ricorda ok cosa possiamo giocare cosa possiamo giocare non la so io non so più che fare scriviamo la live che ne so no where's my night